Bentornati! È sempre difficile dire, e a volte me lo chiedete soprattutto nei live, ma chi è il tuo musicista preferito? Chi è il compositore che preferisci? O il violinista, il pianista? È impossibile ovviamente dare una risposta univoca. Per oggi parliamo di violinisti e vi dico chi sono i miei quattro violinisti preferiti. Allora, diciamo intanto che ho scelto quattro ancora vivi. L'ho fatto sia perché veramente questi quattro sono quattro violinisti che io amo particolarmente, e poi perché comunque già lo so che qualunque nome dovessi fare scrivereste nei commenti e allora Oistrak, e allora Minstein, e allora Tizio, e allora Caio, insomma, vi dico questi quattro, non vuol dire che non ce ne siano altri altrettanto bravi, magari qualcuno anche di più, insomma, ecco, però nell'ambito della soggettività, i violinisti che io amo particolarmente sono Isaac Perlman, perché per tecnica, per, come dire, per funambolismo, per tutto, è veramente un faro. Un bel po' più giovane, Ilari Hahn, che secondo me ha la caratteristica che hanno tutti, tutte le grandi soliste di far sembrare facile, qualcosa di molto difficile. Fra i giovanissimi, o comunque, insomma, tra quelli della nuova leva, sicuramente Giuseppe Gibboni, sicuramente, che tra l'altro ho avuto l'occasione di intervistare un paio di anni fa, poco subito dopo che aveva vinto il Paganini, e poi Hans-Sophie Mütter. Hans-Sophie Mütter è per cui io veramente un piccolo debole. E oggi vi racconto la sua storia. Allora, innanzitutto, può sembrare strano, ma una delle più grandi violiniste che abbiamo oggi nel mondo non ha iniziato a suonare il violino, ha iniziato a suonare il pianoforte. È passata al violino, da bambina evidentemente, quando ha scoperto che, sulle sue parole, sul pianoforte non puoi avere un tuo suono, mentre sul violino sì. E, ancorché, insomma, sia vero che i grandi solisti pianoforte hanno un loro tocco e un loro suono particolare, insomma, mediamente questa cosa è sicuramente vera. Allora, vediamo questo video in cui Hans-Sophie Mütter è bambina, ha dieci anni, qui, le 63, qui siamo nel 1973. Quello che ha sempre colpito di questa ragazzina, e che tutti hanno, anche tutti i critici, hanno messo in evidenza da subito, non è tanto e non solo il fatto, insomma, che le mani andassero. Perché adesso fra un secondo vi parlerò della questione dei bambini prodigio. Ma, soprattutto, quello che tutti trovavano notevole era la sua grande maturità musicale. Quindi non era il classico fenomeno da baraccone che fa andare le dita a 200 all'ora, magari anche benissimo, ecco. Poi, però, insomma, non ha sensibilità musicale, ma anche per questioni banalmente anagrafiche. Cioè, ci sta che un bambino a dieci anni magari possa essere anche un virtuoso lo strumento, ma non possa avere la profondità e l'estensività musicale di un adulto, insomma. Ecco, lei invece ce l'aveva già a dieci anni, beata lei. È stata quindi una bambina prodigio. Ma non è stato quel tipo di bambina prodigio, bambina, bambino, che vediamo spesso. Cioè, come dicevo, una sorta di fenomeno da baraccone. Innanzitutto perché sì, è stata una bambina prodigio, nel senso che l'hanno, tra virgolette, scoperta, diciamo così, a dieci anni. Ma ci sono altri bambini prodigio che magari sono anche molto più giovani, sette, sei, cinque, quattro anni in certi casi. Però il punto su cui vi invito a soffermarvi, a riflettere, è che la maggior parte dei bambini prodigio diventano degli adulti che non sono dei prodigi. Cioè, raramente il bambino prodigio poi ha anche una carriera da adulto. E questo non solo nella musica, eh. Ve la spiego in un'altra maniera. Perché la maggior parte delle fan prodigio alla fin fine scompaiono? Per due ragioni. In primis perché in tanti casi li definiamo prodigio, ma in realtà sono solo precoci. Cioè, tanti bambini riescono a fare molto velocemente, molto presto, un qualcosa che richiede alla maggior parte di altri bambini un numero maggiore di anni. E poi però, come dire, superato questa fase, vengono aggiunti dagli altri, no? È come uno se ne fa la maratona, fa il primo chilometro correndo come un disperato e gli altri li distacca. Ma poi gli altri nella distanza lo prendono e magari anche lo superano e magari quello non arriverà neanche alla fine della gara. La seconda ragione è che non è mai facile reggere una lunga carriera sotto i riflettori, che sia nel campo della musica, sia nel campo del cinema. Cioè, comunque, comporta un'intelligenza, comporta un equilibrio interiore, un sapersi gestire dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista economico, dal punto di vista di prendere o di rifiutare gli impegni giusti per quel momento della tua carriera. Insomma, c'erano tantissime, tantissime variabili in gioco. Altrimenti ci si riduce a quella che io chiamo la sindrome di Shirley Temple. I più giovani non sanno di chi sto parlando, ma i meno giovani sì, i diversamente giovani sì. Shirley Temple è stata un'attrice famosissima negli anni d'oro del cinema, famosa a livello mondiale, perché era bella, era bionda, aveva i riccioli d'oro, cantava, ballava, era simpatica e tutti l'adoravano. Quando è cresciuta era una delle 1500 attrici che c'erano Hollywood, bionde, che cantavano e ballavano e non aveva più, come dire, quella pille che aveva da bambina, infatti poi da adulto non ha fatto assolutamente nulla come attrice. Quindi dicevo, Hans-Lofi Mütter viene ruotata sì perché sa suonare molto bene, ma soprattutto per la sua grande maturità musicale. Allora, perché ci sia un bambino prodigio ci vogliono una serie di ricondizioni, e soprattutto perché questo bambino prodigio poi prosegua la carriera d'adulto. Ci vuole sicuramente un ambiente musicale favorevole, che in una prima fase anche magari obblighi allo studio della musica, poi ci vuole ovviamente una grande presposizione, un grande talento di partenza, e quello non si compra sul supermercato, ce l'hai o non ce l'hai, e poi ci vuole ovviamente tanto, 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 tanto studio, evidentemente. Lei ha però proprio la forma mentis della persona super organizzata, nel senso, ancorché sia una donna brillante, intelligente, che gira il mondo continuamente, e che è anche molto legata alla famiglia, quando le hanno chiesto ma qual è il tuo motto, lei ha risposto there's only one way forward, cioè c'è solo una direzione, andare dritti, quindi nel senso di continuare, nel senso di impegno, nel senso di volontà, nel senso di sacrificio, e chi fa questo lavoro sa bene di cosa sto parlando. A 13 anni viene scoperta da Karajan, 13 anni, cioè ragazzi io a 13 anni giocavo con Big Jim, e lei a 13 anni suonava con Karajan. Io mi immagino la scena, ai 13 anni sei a casa a studiare, a fare pratica sul violino evidentemente, suona il telefono e qualcuno dall'altra parte ti dice che il più famoso direttore del castelmundo vuole lavorare con te. Io ovviamente avrei pensato a uno scherzo e nel mio caso avrei fatto bene a pensare a uno scherzo, invece nel suo caso non si trattava di uno scherzo. Karajan la sente suonare, ne dà la possibilità di suonare in diversi ambiti anche abbastanza importanti, tra i primi concetti che fa il Fassa Lisboa, diretta da Daniel Barenboim, e nel 1978, su di 15 anni, Karajan registra con lei diversi CD per la Deutsche Grammophon. Ecco, tenete presente che su Karajan ho fatto un video apposta, non entriamo nella questione se fosse il migliore o non il migliore, il più bravo, tutto quello che vuole, ma non stiamo parlando di Karajan oggi. Ma nel 1978 Karajan era sicuramente il più potente direttore del mondo. Su questo non ci sono discussioni. Per quello, per tutta l'industria anche discografica che aveva alle spalle, insomma, quindi era il numero uno assolutamente della discografia classica. Quindi, insomma, capite che a 15 anni incidere con il direttore più importante del mondo e con l'etichetta classica, il più importante del mondo, la Deutsche Grammophon, beh, insomma, può anche dare la testa, e può anche dare la testa a cose che a lei non è successa, perché, avendo appunto una mente molto, forse di questo, molto tedesca, no? Molto strutturata, molto disciplinata, ha saputo prendere sempre queste grandi occasioni che le venivano, sfruttarle bene, senza mai montarsi la testa, ma consapevole del fatto che a 15 anni, anche se al feromano, devi ancora studiare tanto, ma tanto, ma tanto. E la collaborazione con Karajan andrà avanti praticamente fino alla morte di Karajan, quindi ci daranno insieme molte volte e ci sarà sempre fra i due, insomma, un rapporto particolare. Quindi, dicevo, a 13 anni viene scoperta, a 14 fa il concerto a Srisburgo con Bar & Boehm, a 15 registra i suoi primi due CD con Karajan e con i barliner, naturalmente, sono due concerti di Mozart e il concerto triplo di Beethoven, l'opera 56, do maggiore. Due anni dopo debutta negli Stati Uniti, con la New York, Philharmonic Orchestra, che sta dietta da Zubimeta. e a 22 anni, cioè un'età in cui spesso un musicista si sta diplomando o giù di lì, lei viene dichiarata membro onorario alla Royal Academy of Music di Londra e messa a capo del Dipartimento di Studi Internazionali di Violino. 22 anni, così. Ancorché chi faccia una carriera così impegnativa non abbia tantissimo tempo libero, lei il suo tempo libero lo passa, dice lei, facendo cose normali, innanzitutto passando il tempo con la sua famiglia, cucinando, andando al cinema e così via. La cosa che mi ha colpito è che lei ascolta molti generi di musica. Infatti aveva dichiarato il suo disco preferito, era un disco di Ella Fitzgerald, quindi qualcosa di molto molto diverso dal suo ambito. E la sua propria preferita è la Bohème cantata da Pavarotti e da Lafreni, inizione storica, ma è anche un'appassionata di colonne sonore, in particolare di Korgold. E non so, questo insomma già da tanto tempo, e non so se questo poi l'ha portata al punto di arrivo, ovvero sia a collaborare con il più importante compositore di colonne sonore 20, di Williams. Forse possiamo anche dire, senza che nessuno si risenta, che sia il più importante compositore di 20. Il più importante, attenzione, ho letto il più grande, il più bravo, il più importante, il più famoso, dai, diciamo il più famoso, ecco, dai, diciamo il più famoso così nessuno se ne risente. Credo che Joe Williams possa essere definito il più famoso compositore vivente, non solo di colonne sonore. Perché Joe Williams, chi lo segue lo sa bene, come anche per Regno Moricone, è famoso per le colonne sonore, ma è un musicista assolutamente completo, e ha scritto moltissima musica assoluta, quindi non applicata a delle immagini. Ha scritto musica da camera, ma ha scritto anche diversi brani sinfonici, quindi che non sono colonne sonore. L'altra particolarità che probabilmente ha avvicinato a lei, è che Hans-Hofi Mütter ha sempre dato molto spazio alla musica contemporanea. Sono stati infatti dedicati a lei ben 31 pezzi che lei ha fatto, prima esecuzione assoluta, di compositori importanti, tra cui Luto Slavski, Penderecki e appunto Williams, di cui ha eseguito il secondo concerto per violino, che ha scritto appunto apposta per lei. E se consideriamo che ormai Mütter ha una carriera di oltre 45 anni, che ha suonato tutto quello che si poteva suonare in tutti i posti più prestigiosi del mondo, che ha vinto quattro Grammy, una quantità di premi discografici, di dischi d'oro che non si contano più, credo che per lei, come dire, forse il tassello che mancava fosse appunto quello di collaborare con John Williams, appunto compositore, sì di musica applicata, ma anche di musica assoluta. Com'è questo secondo concerto per violino? Allora, c'è un errore che fanno spesso tante persone, magari amano tantissimo un compositore di colonne sonore per le colonne sonore e si avvicinano alla sua produzione di musica assoluta con lo stesso approccio, ma soprattutto con le stesse aspettative. È un errore enorme. Cioè, accadeva anche per Morricone che ha scritto tantissima musica assoluta. E il problema è che spesso e volentieri il suo pubblico andava a ricercare in quelle composizioni quello che trovavano nelle colonne sonore e non avrebbe, se allora ne avrebbe fatto le colonne sonore. Cioè, la musica assoluta in un compositore è un percorso che dura dal primo giorno in cui comincia a scrivere fino al giorno in cui passa a miglior vita. Anche nella, come dire, nella musica applicata il compositore ha ovviamente un'evoluzione. Però è un'evoluzione diversa perché è un'evoluzione sempre mediata dall'immagine e sempre mediata anche dal gusto del tempo. In questo senso il composizore di colonne sonore spesso è un po' soggetto, un po' vittima di quello che va in quel momento. Solo musica assoluta no. La musica assoluta è proprio un percorso che evidentemente è frutto di una ricerca. Per cui è sbagliato andare a ascoltare intanto per parlare di questo pezzo il secondo concerto per il violino di Williams aspettandosi di trovare aspettandosi di trovarsi davanti a un'altra guerra stellari. È proprio un approccio sbagliato ma è un errore fatto esclusivamente da chi ascolta e che poi purtroppo porta a non apprezzare il pezzo che stiamo ascoltando perché in questo caso è un pezzo a tonale se vogliamo assolutamente notato da quella canonamente la musica che fa Williams per i film ripeto e non avrebbe senso fare una cosa uguale allora facciamo un altro film quindi non è neanche di ascolto immediato però è comunque un gran pezzo di musica scritta molto bene non facile da suonare per il per la sudista ma anche per l'orchestra e non è neanche facile dirigere per il direttore la partitura è molto densa prevede un organico molto ampio quindi quei legni con legna 3 un'esagerazione di tromboni e quindi poi tutta la sezione di archi di percussioni quindi un'orchestra completa per cui oggi a 61 anni dopo oltre 45 46 47 anni di carriera Hans-Sophie Mütter è ancora sul tetto del mondo e io credo che ci rimarrà ancora per tanto ci rimarrà fino alla fine finché avrà le dita e la testa e la testa personale perché se non hai come dire perso il controllo con la realtà quando diventi famoso e ricco da giovanissimo e capisci comunque che tutti i percorsi ma la musica in particolare tutti i percorsi artistici ma la musica in particolare obbligano a mantenere lo studio la costanza la disciplina a fare un sacco di rinunce eccetera eccetera se lo capisci puoi suonare come Martha Hargerich fino a più di 80 anni e se non lo capisci riedi un bambino prodigio che poi si perde per strada bene spero che il video vi sia interessato ringrazio in particolare Davide Castoldi per la realizzazione di questo video iscrivetevi al canale e lasciate un like se il video vi è piaciuto ovviamente altrimenti non lo lasciate e vi ricordo che da qualche tempo potete abbonarvi al canale trovate in descrizione di questo video il link per abbonarvi se avete piacere di sostenere in maniera concreta il canale altrimenti ci vediamo al prossimo video non mancate grazie a tutti i nostri spettino